Benvenuti a Maranola, alla 42esima edizione del Preservi Vente organizzata dall'Associazione Culturale Maranola Nostra. La manifestazione tra i origini dell'antico Preservi del Racotta custodito all'interno della chiesa di Santa Maria dei Martiri a Maranola e oltre 300 figurati, tutti in costume locale, animano le viuzze del nostro corpo. Culturale Maranola Nostra. Culturale Maranola Nostra. Culturale Maranola Nostra. Culturale Maranola Nostra. Culturale Maranola Nostra.